Siamo dinnanzi alla Fondazione Cittadella della Carità, qui a Taranto, quartiere Paolo VI, un sit-in di protesta dei lavoratori che da lungo tempo non percepiscono stipendi. È una situazione molto incancredita quella della Fondazione, debiti su debiti. C'è anche un decreto ingiuntivo che blocca in buona sostanza i pagamenti e siamo con il rappresentante della Will Funzione Pubblica, Volpe. Allora avete avuto un incontro con il CDA, con i rappresentanti. Qual è la situazione? Poi vorremmo anche dei dettagli circa le mensilità o le annualità arretrate. Noi protestiamo oggi perché richiediamo il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate ai lavoratori, ma non solo retribuzioni, ma anche i monumenti arretrati, perché i lavoratori avanzano il 75% della tredicesima, un premio incentivante e a breve maturerà un nuovo premio incentivante che non verrà presumibile. Da quanti mesi non ricevono quindi stipendio? Allora ad oggi i lavoratori hanno ricevuto solo un acconto della retribuzione di aprile. Noi siamo qui per chiedere chiarezza, per chiedere informazioni sul futuro della fondazione. Abbiamo l'incontro ancora in corso, ci stanno ancora fornendo le informazioni, ma il quadro ovviamente si è un po' più delineato e siamo riusciti a capire qual è la ragione di questo ritardo. È stato depositato un decreto ingiuntivo da parte di una multinazionale, circa 350 mila euro, che è un debito molto molto vecchio, che va nel passato. Ecco, però vorremmo capire perché se si è arrivati a questa situazione, evidentemente ci sono stati degli ammanchi, delle situazioni che si sono incancrenite negli anni. Ricordiamo che la struttura fu realizzata in lot tempore attraverso il salario appunto dei dipendenti ex Italsider all'epoca di Sua Eccellenza Monsignor Guglielmo Motolese. Cosa è successo in questi anni per andare a finire nel baratro? La fondazione ha milioni e milioni di euro di debiti. Come si sono creati questi? A noi le informazioni non ci sono mai state fornite. Noi abbiamo richiesto anche un'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori, perché se si sono venuti a creare milioni e milioni, ma parliamo di oltre 10-15 milioni di euro, se non anche di più di debiti, che ovviamente la fondazione sta cercando di far fronte. Quando ci sono dei decreti ingiuntivi fa opposizione, si cercano delle transazioni per il dilazionamento delle somme, ma a questi debiti ora aggiungiamo anche quelli dei lavoratori che oggi sono disperati. Ecco Volpe, io registravo proprio qui lo stato d'animo, l'agitazione legittima, sacrosanta, dei dipendenti che non ricevono stipendio e dicono sì, però al di là degli impegni, delle belle parole, sono le solite promesse che alla fine non portano a nulla. Speriamo che anche questa volta non si risolva tutto in un procrastinare all'infinito. Noi alzeremo l'attenzione al massimo, questo è solo il primo passo, perché dopodiché andremo ad occupare la sede dell'Arcivescovo, perché siccome il Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Vescovo, noi non ci fermiamo. Cioè noi siamo qui, chiediamo chiarezza, chiediamo contezza di quello che è avvenuto e anche un'azione di responsabilità in chi ha portato e sta portando al fallimento questa fondazione. Perché in questo momento il rischio era che si prendevano e si portavano i libri in tribunale. Questo avrebbe comportato il blocco delle attività, il congelamento... Ora invece si parla di un'accensione del mutuo per poter spalmare il debito e contemporaneamente tamponare queste situazioni di emergenza nell'erogazione degli stipendi. Però io noto qui molta sfiducia, un'agitazione dettata dal fatto che ci sono state sempre tante promesse, però poi promesse, promesse e di fatti se ne vedono ben pochi. Per i lavoratori questo è un déjà vu. I lavoratori, quello che stanno vivendo oggi, l'hanno già visto, hanno ceduto dilazionando delle somme pregresse e ora rischiamo di dover ricorrere nuovamente a questo meccanismo. Bene, e allora sentiamo la viva voce dei dipendenti. Signora, lei da quanto tempo non riceve lo stipendio? Lei diceva, giustamente, mentre parlava il sindacalista, già c'era stato un concordato. È una situazione che si protrae per perdere tempo, prendere e perdere tempo. E abbiamo accettato e abbiamo accettato le loro somme. Non ci hanno avvisato che non devono togliere il 33% e abbiamo preso ancora di meno. E abbiamo preso questi soldi che dovevamo avere a rate. E io ho fatto debiti, come io e tutti gli altri miei colleghi, per andare avanti quei 3-4 mesi che non abbiamo avuto lo stipendio, a debiti. E ancora stiamo pagando i debiti, perché ad avere 15.000 euro, avere 10.000 euro e poi almeno il 33% ne abbiamo avuti 6.000. 6.000 a rate. A rate non abbiamo fatto niente. E questo è sempre così. E si continua ancora. Si continua a prendere tempo e purtroppo le prese per i fondelli sono tante. Stiamo cercando un po' di sentire il parere dei dipendenti. Vogliamo così constatare la situazione attraverso la viva voce dei dipendenti. Lei è una fisioterapista? Sì, è sempre presente, come io e tutti i miei colleghi e altri colleghi di struttura. Sempre presenti e sempre col dovere. Non abbiamo mai, nonostante il nostro malumore, nonostante la situazione mancato nel rispetto del paziente e di tutti quelli che... Diciamo che avete sempre profuso la vostra professionalità. ...e con il sorriso. Ok? Però siamo arrivati ora ad un certo punto che sinceramente siamo stanchi, stanchi veramente. Le abbiamo avute anche noi, le ingiunzioni, perché non riuscendo a pagare, a coprire i debiti, le ingiunzioni sono arrivate anche sui nostri stipendi. Chiaro, perché poco si interessano che voi veniate pagati o meno. Non è un mese, due mesi, è una situazione che si protrae da tempo. E ora si prende tempo, si parla di questa ingiunzione, si parla di questa accensione di mutuo, ma sembra una musica già vista. Abbiamo già sentito, sì, abbiamo già sentito, ecco perché non ci crediamo più. È sicuro, siamo sicuri che fra qualche mese ci si ripresenterà di nuovo la stessa situazione. Io ho un figlio che devo garantire un futuro, sono monoreddito e sinceramente con l'incenzione che ho lo stupendio, 1000 euro prendo, mi rimangono, averla a rate, pure questo stipendio arretrato, a 55 anni non posso andare a chiedere la 100 o la 200 euro ai miei genitori, che me li darebbero sicuramente, ma è una questione di dignità. Così come io, così come tutti i miei colleghi. Perché anche se uno ha doppio reddito, fa i passi per il doppio reddito. Quando ti viene a mancare uno di questo, è grave la situazione. E basta, solo questo. Come la penso io, ripeto, la maggior parte dei 184 colleghi la pensano come me. Certo è che io dico che nel tempo davvero questa realtà che fu costruita con tanto amore all'epoca di Monsignor, Sua Eccellenza Monsignor Motolese, davvero ha raggiunto una situazione incredibile e vergognosa. Lo dico senza mezzi termini, penso che Monsignor Motolese si stia rivoltando nella tomba. Stavo a perdire io. Stavo a perdire io. Stavo a perdire io. Sono qua una collega, sono qua infermiera, sono qua 21 anni che lavoro qua. Ci siamo proprio rotti. Rotti perché ogni volta è sempre la stessa storia. Mutui, ingiunzioni. Si prende tempo. Perché siamo, scusate il termine, noi siamo coglioni perché oggi qua proprio appena uscivano con tutti questi tutti questi tre, quattro. Qua bisognerebbe dire noi ci fermiamo. Tutti i pazienti, pazienza, pazienza, vado contro un po' la mia dignità. Il vero ce lo vieta questo, perché abbiamo un senso del dovere molto, molto, molto profondo. Ed è questo che ce lo vieta. Perché purtroppo cioè essere presi in giro a questa età siamo tutti quanti datati qui. A parte tutto che ci teniamo alla struttura, ci teniamo ai pazienti che adesso vengono, vanno via e tutto qua. non abbiamo divise, ce le compiamo noi, o che non ci sono le cose adatte a lavorare, non ci sono lenzuola, non c'è niente di niente. Però io dico a questo... Noi siamo sempre. A questo punto però sarebbe anche opportuno, doveroso, che la magistratura facesse le sue verifiche. Perché com'è possibile che sia arrivati a questo punto da una struttura, una realtà che è nata a Florida all'epoca di Motolese e poi dopo la scomparsa di Motolese è andata, è finita in un precipizio in un pozzo senza fondo. Ma non si conosce il peccatore. Questo non c'è due... A questo punto noi vorremmo anche delle risposte. Io penso che verrà anche coinvolto l'arcivescovo perché comunque il CDA è di nomina dell'arcivescovo e quindi comunque... però faccia non ne mette mai. Non l'abbiamo ancora niente. Faccia non ne mette mai voglio dire. Siamo un signore che tutti gli altri. Faccia non ne mette nessuno. Noi stiamo mettendo oggi la faccia qua. Noi. Lui poteva venire oggi perché sapevamo di questa manifestazione e sa noi in che grado siamo, come siamo. Perché siamo diventati proprio dei pezzenti siamo diventati pur lavorando tutti i giorni. Tutti i giorni siamo qua. In questo periodo di Covid che è stato aggiunto. Bravo il Covid. In un periodo particolare della sanità comunque. E la situazione è ancora più grave per i monoreddito? Tipo me che sono mamma e padre dei miei figli e sono monoreddito. E anche che c'è due redditi e lavora qui alla cittadina. C'è gente che hanno... Lavorano entrambi marito e moglie ancora peggio poverini. Perché poi non serve a niente avere due stipendi però... Due... Diciamo due occupazioni però non ricevere stipendio non ha senso. Ancora peggio. la vita diventa ancora più disastrosa per loro purtroppo. Bene, noi... Voi sapete che io affronto molto le tematiche dell'ILVA sia come aspetti ambientali sia come aspetti occupazionali però vogliamo evidenziare il fatto che sotto l'aspetto occupazionale si parla sempre della crisi ILVA ex ILVA ed è giustissimo farlo ma ci sono tante altre situazioni molto ma molto pesanti. Qui parliamo di centinaia di lavoratori che pretendono risposte che pretendono un salario che pretendono il diritto alla vita è una esistenza appunto dignitosa per cui ripeto non vorremmo che qui a Taranto sotto come dire la quercia della situazione ILVA altre realtà apparentemente minori venissero come dire così nascoste ed è giusto opportuno e doveroso come dire metterle alla luce continueremo con le nostre inchieste con questa inchiesta perché vogliamo capire come si è arrivati a questo baratro e capire anche le risposte perché qui come si vede dalle varie interviste non si fa altro che fare promesse e prendere tempo è un film già visto un film a cui bisogna porre la parola the end la parola fine per la tutela e la dignità di chi lavora in un settore particolare perché non sono dei semplici lavoratori ma sono dei lavoratori che assistono gente sofferente gente ammalata e lo fanno con il cuore lo fanno con tutte le difficoltà con tutta l'esasperazione che il non ricevere lo stipendio anzi gli stipendi comporta e lo fanno